Musica Ci troviamo nella più grande area dedicata al mondo dei dinosauri mai creata prima in un parco di divertimento italiano Siamo a Dinoland dove qui potrete incontrare brontosauri, pterodattili, dinosauri e tanti altri tipi di sauri che non stanno aspettando altro che giocare con i loro piccoli amici cuccioli d'uomo Solo qui a Dinoland infatti umani e dinosauri potranno giocare tutti assieme sfidando le leggi del tempo e della storia Ma fate attenzione però, cercate di rispettare l'ambiente, la natura e gli animali perché su di essi veglia il potente maestoso Mirasauro Musica Ah dimenticavo, prima di ritornare a casa mi raccomando ricordatevi di passare a prendere patente preistorica a bordo delle Bronto Car Musica 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 Musica